Ciao da Nicola e il mio amico Joshua Buongiorno a tutti, buongiorno da Joshua, l'amichetto da Nicola, yeah Fai vedere Nicola che cosa mostri oggi ai tuoi spettatori? Oggi mostro i passaggi segreti che ho fatto da sola Ah, pensavo che mostrassi i tuoi capelli arancioni Ehi Perché hai capelli arancioni? Non lo so Però tu non hai capelli arancioni Nicola, vero? Eh, no Va bene, dai, ti lascio giocare, vai Ok Prendo le torce Allora Vediamo prima questa Allora questa Vedete qui c'è due torce Le leviamo Devo rimettere l'erba L'erba Vedete C'è Praticamente c'è un Un passaggio Li mettiamo Ripetiamo 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 Amma mia Questi animali poi ci passano Ci passano Allora qui non è Cioè Cioè non è Allora Vediamo Non lo so se vi piace questo passaggio ma C'è un maiale Due maiali Porcellini Cos'va quel culone del maialone qua sotto Nicola? Non puoi stare qua maialetto E si Un altro maiale che fa capocello nella porta Guarda Guarda quella capocello Si spuga proprio qui dentro Dai una pizza al maiale Che non deve fare capocello alla porta Maiala Oh entra o esce maiale Ma che poi si entra E lui Guarda E quello che ha una malè È un gatto Ok Sbuga Sbuga qui Dove c'è il cavallo E due maiali O tre Cinque maiali E un cavallo Perché ho contato Ho c'ho mostrato Per contare Qui C'è una torce Grazie Qui non è tanto un passaggio E che Buonanotte Joshua Buonanotte Ilia Che è successo? Eh Guarda Buonanotte Io ho paura per voi Non farmi vedere il buio Che io ho tante paure Tu devi mettere sempre l'uso E tanto sono Guarda ma qua sotto Che cos'è? Una caverna? Sì E cosa c'è qua sotto? Nicola Non lo so Ho paura Che cosa sono Quelle funghetti? Funghettini Basta Funghettini Che carini Funghettini No No basta Non voglio più Funghettini Che carini Che carini Aiuto Ma tu danni le trovo strade Perché vedi l'illuminazione Che tu hai fatta Infatti come storia di Hansel e Gretel Ti ricordi? Hansel e Gretel Hansel e Gretel Ma guarda che vissero Non me la corno Si era Hansel e Gretel Che mettevano le sassoline Per trovare strade Tu ti ricordi La storia di Hansel e Gretel? No Allora Non so Io me ne vado indietro Così Ma perché stanno Ah Vegetazione Vegetazione Me ne vado Vegetazione Non passare davanti Dove sono? Dove sono? Aiuto Ma adesso faccio sentire I tuoi amici Soffiare Della nasa De Joshua Joshua Adesso Nassine de Joshua Molto meglio Mettiamo la doccia Grazie Andiamo a vedere Scusi Aspetti Scusi Signor Maialino Vattene vai Signor Maialino Esistono solo Signor Maialino Ma perché? Vediamo la piccola Aiuto Quando l'ho costruita io Ok Sbuca qui Sbuca qui se mi ricordo No Ciao Eh si sbucava proprio qui Raga Raga Sbucava proprio qui Però Angel Anza il Gretel 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 Perché? Non si mettono Basta Mi sbucava qua Che ho pure Ok C'è quella scritta Però Se mi ricordo C'era anche qui Quanti animali Mi rimangono? Ah si Alcuni L'avevo buttati fuori Perché erano troppi Posso mettere Mamma mia Poveri cavalli Che ero un pochino Dico un po' di cose Ci stanno altri passaggi segreti Ma Finisce qui il video Perché non può durare troppo Quindi Però Vabbè In un prossimo video Ve li faremo Vedere Ciao da Nicole Il mio amico Joshua Ciao a tutti Ciao ciao E anche Fabrizio Certo Fabrizio c'è sempre Fabrizio e Joshua Yeah